ben tornati siete di nuovo insieme a Laura Croce stiamo tornando a parlare di arti marziali come vedete non sono da sola ma dalla scuola Yanlon di Riccione ho in collegamento Daniela Pozzi ben tornati ben trovata ben benvenuta Daniela è un piacere grandissimo averti per questa chiacchierata salve a tutti grazie allora Daniela è un'allieva del maestro Diego Rillo che abbiamo già avuto modo di conoscere ed è da qualche anno insegnante di Tai Chi quindi Daniela voglio approfittare della tua presenza per chiederti di spiegarmi che cos'è il Tai Chi come vi risponderesti quali sono le parole che useresti per descriverlo allora l'arte del Tai Chi è un'arte fenomenale intanto mi viene da dire così entusiasmante è un'arte nobile cinese marziale che si basa esclusivamente sull'equilibrio degli opposti quindi dello Yin e dello Yang e riunisce diciamo in sé tre principali caratteristiche che sono la meditazione il movimento e il combattimento ho capito quindi questo è più o meno il Tai Chi ma quello che vorrei sapere è perché tu hai iniziato a praticarlo e perché ti senti di consigliarlo anche ad altri io ho iniziato tanti anni fa ormai sono otto come allieva del maestro Diego Rillo poi mi sono andato un po' all'insegnamento da pochi anni ed è una pratica che consiglio a tutti intanto perché si può fare a tutti l'età e per tutta la vita e porta tanti miglioramenti e soprattutto anche per la prevenzione e si basa cioè possiamo parlare dal miglioramento della pressione sanguigna della circolazione alla concentrazione a migliorare diciamo tutti quegli elementi inerenti alle articolazioni a tutti i doloretti che si hanno dalle spalle alla zona lombare alle articolazioni e inoltre è un ottimo aiuto per chi magari ha un carattere un po' introverso perché con la pratica si riesce ad aprirsi un po' di più al mondo esterno si riescono ad affrontare i cambiamenti della vita che ognuno di noi ha tutti i giorni e ci si apre anche agli altri e quindi si arriva ad avere una maggiore fiducia in se stessi con il tempo il tai chi è stato definito anche meditazione in movimento perché secondo te è stato definito così perché è un efficace strumento per la per l'osservazione di sé del sé di noi stessi che mai ci conosciamo fino in fondo e la costante pratica degli esercizi unita anche a una corretta respirazione ci porta ad avere un'armonia un'armonia interna che fluisce si unisce all'armonia mentale fisica è un concetto affascinante allora mi viene da chiedermi perché una disciplina così meditativa rientra nelle discipline che sono insomma le arti marziali e viene chiamata marziale perché tai chi vuol dire estrema polarità si pratica a mani nude attraverso esercizi e sequenze e con le armi le armi quale la sciabola la spada e il ventaglio oggi questi strumenti vengono usati per l'aiuto alla salute un tempo diciamo le persone soprattutto nei villaggi le prime cose che avevano da usare come armi erano le mani oppure il bastone oggi ciò viene appunto utilizzato come attrezzo per la salute incredibile incredibile è un tuffo davvero in una cultura di di millenni io ti ringrazio daniela di essere stata con noi e di avercene parlato grazie daniela grazie e spero di reverti molto presto come ospite io ringrazio voi buona vita grazie a presto e se anche voi siete curiosi volete saperne di più mi raccomando contattate la scuola yanlong e soprattutto non cambiate canale